ciao ragazzi sono in questa panchina rossa che simboleggia la violenza ma anche la passione la tentazione e tante altre cose e anche quelle cose che voi pensate cioè seguite le nostre letture di 50 su motore di rosso perché saranno molto più erotiche quest'anno comunque sono qui per comunicarvi in questa panchina rosso rossa che allora sabato 8 aprile saremo io e barone al romix quindi ci sarà anche una sorpresa perché saremmo qualcosa collegato con 50 assumature e chi vuole potete seguirci in pagina per gli aggiornamenti noi ci sposteremo e vi diremo tutto ma anche forse sul gruppo una specie di whatsapp che non è whatsapp ma è il gruppo un attimo che non mi ricordo allora il gruppo ecco telegram telegram e forse se riusciremo a fare questo gruppo in link c'è in descrizione troverete il link per telegram ok quindi vi aspettiamo a romix sabato 8 aprile dalle 10 fino alle 6 di pomeriggio mi raccomando le sfumature che siano sempre con voi il rosso della tentazione ciao ragazzi alla prossima